Ciao a tutti gamers, mi presento, io sono Klaus e ho deciso di aprire questo canale di YouTube semplicemente per fare gameplay, insomma. Quindi, cosa sarà centrato il mio canale? Allora, il mio canale sarà centrato su gameplay di tipo horror, gameplay tipo avventura, sparatutto, giochi in prima, terza persona, e anche su tutto quello che volete, però si sa che il mio genere preferito è sempre stato l'horror, o almeno i miei amici lo sanno. Quindi, niente, per ogni video vi auguro un buon divertimento, io cercherò di fare del mio meglio per farvi divertire, per ridere insieme a voi, e niente, allora, ci vediamo sul mio canale, per ogni video vi invito a cliccare mi piace, a condividerlo, a iscrivervi al mio canale, e anche la mia pagina di Facebook. Bene, detto questo, buon divertimento ragazzi, ci vediamo sul mio canale. Ciao, belli!